Mi è parso una persona assolutamente in linea con quelle che sono le caratteristiche personali della famiglia Sannella, una persona di grandissimo coraggio, rispettosa dei propri impegni contrattuali, ma soprattutto una persona che ha deciso di, spontaneamente senza nessuna forma di coercizione o di pressione, di farsi carico del futuro del Foggia Calcio. Questo a me è parso sin da principio, poi, ripeto, in quei pochi incontri che ho visto, ho visto una persona assolutamente convinta di quello che ha fatto, ma soprattutto convinto di quello che andrà a fare. Quindi mi pare questo sia un segnale, perlomeno quello che ho ricevuto io, un segnale assolutamente positivo e in linea con la programmazione della società. A me fa specie che qualcuno di voi abbia avuto dubbi al riguardo. Per due ragioni di ordine le metto in fila. Da un lato voi avete conosciuto sicuramente l'impegno e l'impegno economico sostenuto dalla famiglia Sannella per il Foggia Calcio. Francamente io faccio fatica ad immaginare che si possano nutrire dubbi quando un impegno economico di questo tipo abbia poi portato a questo tipo di risultati. Dall'altro immaginare che in qualche modo si possa mollare la barca così sicca e simplicita di fronte a un investimento economico anche importante. Cosa che francamente non è mai stato nelle intenzioni della famiglia Sannella che sta continuando ad impegnare, quindi Franco con cui io ho rapporti chiaramente codiani, tutte le proprie risorse, le proprie energie. Allo stesso tempo mi pare giusto però evidenziare che è la famiglia Sannella che si sta facendo carico del Foggia Calcio. Non mi pare ci siano altri che in qualche modo stiano supportando la famiglia Sannella nella gestione del Foggia Calcio. Quindi l'invito, questo lo dico in camera carità, anche se vogliamo da tifoso, la città deve stare vicino al Foggia Calcio, la città deve stare vicino agli imprenditori che hanno investito molto in Foggia Calcio ma che hanno investito anche in altri comparti aziendali che rappresentano ecco uno zoccolo duro del tessuto economico. In questo momento ha vissuto sicuramente un momento di difficoltà ma il coraggio e l'abbregazione è l'ultima cosa che manca a Franco Sannella e alla sua famiglia. Anzi, tutto quel coraggio verrà fuori come sta venendo già fuori oggi.